Giulio Sabatti è stato veramente un pezzo di storia e quindi diciamo uno che veramente per l'artigianato e per il commercio si è dato molto da fare. Prima in confartigianato e poi in confesercenti. Quindi sia per il settore diciamo artigianale che quello del commercio? Sì perché lui conosceva bene diciamo tutte le leve che si devono muovere per fare questi lavori, per fare appunto queste categorie importanti e fra l'altro era anche un appassionato oltretutto del suo lavoro. Quindi ecco era, intanto è vero che una volta abbiamo fatto qui ad Arezzo un'assemblea nazionale dei fotografi e quindi 200 fotografi venuti da tutta Italia perché proprio ci metteva passione e non si stancava mai. Quindi insomma un messaggio di cordoglio anche da parte di tutta Arezzo TV? Sì sicuramente alla famiglia perché effettivamente era una persona che lo meritava quindi ecco Giulio anche di lassù forse probabilmente farà sicuramente qualcosa.